video da video mamma mia come sono state queste foto sono state bellissime molto faticose per roberto secondo me però sono state bellissime lei è roberto si infatti che non è mai apparsa il nome non è mai apparsa un video versi per la video versi è un video giovanni ciao gara abbiamo fatto appena delle foto stupende con il cinesino marocchino brasiliano ha detto no che significa una 25 e una web si lo ripresa lui dice qualcosa soddisfatta le due foto non si sono i soggetti che sono quello che sono insomma è quella macchina perché nel senso abbiamo le foto che c'hai d'intranessi grandi e piccolino quella grossa doveva vedere cilindrata dice che magari era la cilindra c'era si è un bel culo c'è siamo meglio di dietro che non da male no non le devo modificare questo è proprio il manifesto del gay pride visto l'unica cosa è che io non mi è proprio il linguaggio che è un progetto Sì, per me non lo so No, non lo so Gabi, Gabi Vite il video Yeah, mi sono saluto Vite il video Mi sono andato in questo video No, non lo so Se hai, mi sono... Vite il video Oh, no Yeah, mi sono saluto ... Viene una merda questa Sardiamo a questo 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 No Sardiamo a questo Sardiamo a questo No No Bonito Sardiamo a questo Sardiamo a questo